Allora, quarta e forse ultima parte, in realtà ce n'è una finale ma non credo che ce la faremo, però quarta e ultima parte di oggi, le licenze open. Torniamo al nostro schema perché, come avete capito, è diventato la nostra mappa orientativa per il corso e l'ultimo punto, cioè l'ultima gamba di questo schema a destra. Il libero utilizzo è stabilito dal titolare dei diritti. Vi ho un po' anticipato già di cosa si tratta, quindi non credo sarà così difficile. Ma iniziamo a capire meglio che cosa si intende. Innanzitutto una riflessione sul termine licenza. Licenza deriva dal licere latino, che vuol dire permettere di autorizzare, quindi quando c'è una licenza c'è sempre qualcuno che autorizza qualcun altro a fare qualcosa. Apro un bar, ho bisogno della licenza. Voglio fare il tassista e ho bisogno della licenza, quindi c'è un ente che mi dà questa licenza, cioè l'autorizzazione a fare questa specifica attività. Qui siamo nell'ambito della proprietà intellettuale, del diritto d'autore, quindi chi è che darà la licenza? La licenza la dà il titolare dei diritti, colui che ha il coltello della parte del manico dal punto di vista del diritto d'autore. Quindi il titolare dei diritti è il licenziante, colui che autorizza gli utilizzi della sua opera e colui che riceve la licenza è il licenziatario. Questa è una terminologia tipica del mondo giuridico, cioè il locatore-locatario, il cedente-cessionario e il licenziante-licenziatario. Una licenza quindi per opere creativa è in sostanza un documento con cui il titolare dei diritti regolamenta e regolamenta l'utilizzo della sua opera e ne autorizza alcuni usi. Perché ho messo alcuni, tra parentesi? Perché se ne autorizza tutti gli usi in realtà siamo in un pubblico dominio, no? E quindi nelle licenze di diritto d'autore quasi sempre, cioè l'autore si riserva ancora qualche diritto, magari molto pochi diritti, però qualcuno se lo tiene perché sennò sarebbe davvero una situazione molto simile al pubblico dominio, quello che noi abbiamo chiamato CC0. Le licenze hanno sempre due anime. Una licenza, vedete, cioè un'anima in cui si definiscono gli usi che si possono fare dell'opera e invece una parte, un'altra anima in cui si stabiliscono le condizioni che vanno rispettate. Quindi con una licenza quasi sempre ci viene detto cosa possiamo fare, ma ci viene anche detto quali condizioni dobbiamo rispettare per poter fare questi utilizzi. E a seconda che prevalga l'una o l'altra anima, cioè che prevalgano le libertà concesse o prevalgano le condizioni imposte, si dice o licenza open o licenza proprietaria, cioè se la licenza appunto concede molti usi liberi è una licenza open. Se una licenza invece viene utilizzata più che altro per aggiungere vincoli all'utilizzo dell'opera, aggiungerli anche, diciamo, ulteriori rispetto a quelli che normalmente la legge prevede, allora si chiama licenza proprietaria. Il classico esempio di licenza proprietaria sono le licenze del software proprietario, software, non so, Windows, Word, no? Se avete Office in ufficio o installato sul vostro computer e leggete la licenza scoprirete che quella copia di Office la potete installare solo su una singola macchina, potete utilizzarla solo a scopo personale e non a scopo business perché se no doveste comprare la licenza quella che costa un po' di più e via dicendo. Vedete che quella è una licenza utilizzata proprio per aggiungere vincoli all'utilizzo dell'opera. Noi invece adesso ci occupiamo del resto, cioè delle altre licenze, cioè licenze che invece spingono verso una libera utilizzazione delle opere. E vabbè, quello che vi ho detto viene ben rappresentato in questo schema, in questa metafora, in questa metafora del cartello all'interno di un parco. Vado a vedere un parco, un parco di quelli diciamo recintati per cui c'è un ingresso con un regolamento, un cartello che ci dice cosa posso fare e cosa non posso fare all'interno del parco. E se il cartello è un elenco di divieti, non posso accendere i fuochi, non posso fare il picnic, non posso portare il cane, non posso sedermi sulle aiuole, è una licenza proprietaria. Se invece il cartello ci dice è possibile fare il picnic, è possibile portare il cane, è possibile raccogliere i fiori, ma non puoi accendere i fuochi perché è comunque pericoloso, ecco quella è una licenza open. Ok, questa è una spiegazione che solitamente arriva anche ai bambini che sono ragazzi delle medie a cui faccio ogni tanto dei corsi e mi sembra abbastanza efficace. E con le licenze gratis commons riesco a creare, non sono 50 in realtà le sfumature di open, è una battuta per ovviamente il richiamo al famoso romanzo, ma sono 6, dopo lo vedremo. Però in effetti io con le licenze gratis commons creo una sfumatura intermedia tra il bianco e il nero. Abbiamo parlato di copyright, di diritto d'autore come tutti i diritti riservati e poi abbiamo parlato del pubblico dominio come una situazione in cui nessun diritto è riservato, cioè tutto è libero, non devo chiedere il permesso per nulla, a nessuno. Con le licenze gratis commons vedete che il motto delle gratis commons è alcuni diritti riservati, some rights reserved, ovvero situazioni intermedie tra il bianco e il nero, create attraverso, cioè sfruttando lo strumento della licenza, sfruttando la scelta del titolare dei diritti che applicano la licenza delle sue opere. Qui ci sarebbe un video da vedere, non lo facciamo in tempo, è un video che trovate su YouTube o anche sul sito di Creative Commons, se cercate Diventa Creativo o Creative Commons lo trovate su vari canali YouTube. E' un video molto bello che assolutamente vi raccomando di vedere perché da un lato ci aiuta a ripassare quello che abbiamo visto in questo nostro corso di due giornate perché una prima parte fa un po' un riassunto dei principi del diritto d'autore, ha una grafica animata molto chiara e poi a un certo punto dice e da qui entra in gioco Creative Commons e spiega che cosa fanno queste mitiche licenze. Noi abbiamo meno tempo quindi lascio a voi guardarlo e vi racconto io cosa fanno queste licenze e come sono state concepite.